Eccoci, questo è Spinit, episodio 23. Ciao Fra, buonasera. Ciao Fra. Come potete ben vedere, insomma, non siamo solo in due, ma c'è un ospite, e che ospite, per ripetere uno slogan che a questo punto, insomma, abbiamo fatto nostro. Con noi, Cristiano Godano, Marlene Kunz, e non credo ci sia bisogno di tante altre presentazioni. Ciao Cristiano. Ciao Cristiano. Grazie per l'ospitalità. Grazie a te per esserti presentato. Grazie, grazie davvero. Senti, allora, io direi di partire subito dall'attualità, diciamo, e quindi dal tuo disco da solista, e mi ero perso il cuore. Allora, ascoltandolo si nota subito chiaramente quanto sia diverso rispetto a quello che hai fatto con i Marlene, soprattutto dal punto di vista sonoro e musicale. Anche se, secondo me, in realtà si vede una, diciamo, uno sviluppo coerente per quanto riguarda la parte lirica che già si intravedeva nel lavoro con i Marlene. Ecco, diciamo, da quanto tempo stavi preparando un lavoro così da solista? È un qualcosa a cui stavi pensando da tanto tempo oppure, per quanto, diciamo, possa essere un disco, è stata una cosa estemporanea? Stemporanea? Non lo so, spererei di no, però per ora non è previsto nulla in particolare. Io ho cominciato un bel po' di anni fa a suonare anche da solo, in giro. Non ho mai fatto concerti solitario, mi sono sempre presentato al pubblico con la formula delle musica e parole. C'era un interlocutore con me, in genere un giornalista o comunque qualcuno che poteva svolgere quel ruolo, mi sollecitava con domande, rispondevo e poi ogni tanto a queste risposte alternavo delle suonate. Chiaramente suonavo con la chitarra acustica dei pezzi dei Marlene. E questa cosa lentamente mi ha fatto venire voglia di, prima di tutto, di fare un concerto e basta. Perché questa cosa di parlare e suonare mi piace, mi è congeniale, ma è anche limitante. Perché a un certo punto, quando io inizio a suonare, dopo magari due pezzi, ritorno alla formula dell'intervista. È un po' come una specie di viaggio interrotto, no? Ogni volta si deve ripartire, riprendere la concentrazione. Ci sto dentro, ma volevo comunque riuscire ad arrivare a un concerto. Quando ho capito che questo era un desiderio, era anche evidente che non potevo andare a fare un concerto solitario con i pezzi dei Marlene, non sarebbe stato neanche particolarmente elegante nei riguardi dei miei sodali di sempre. Quindi poco alla volta è venuto fuori questo desiderio di andare fino in fondo e di fare questo disco. Bene, bene, ho capito. E senti, sempre parlando del disco, tu hai collaborato, cioè il disco è coprodotto da Gianni Maroccolo, per, vabbè, anche lì non credo ci siano bisogno di grandi presentazioni, comunque che è stato bassista per Elite Fibra, CCCP, CSI e PGR. E poi ha continuato anche lui con la carriera solista. Tra l'altro ha pubblicato tre dischi di Alone, volume 1, 2 e 3. Quindi, insomma, è sempre attivo e ci dà dentro. Sempre alla produzione c'è Luca Rossi, un ex Usma Mo, e tra le collaborazioni c'è Enrico Gabrielli, Valentina Santini, Alice Frigerio e Vittorio Cosma. Io ti volevo chiedere, siccome, diciamo, la collaborazione con Maroccolo in particolare non è nuova, cosa rappresenta per te Gianni Maroccolo e come ti trovi a collaborare con lui, ecco? E' una persona con cui sono in amicizia e in rapporto collaborativo-lavorativo da più di 25 anni, quindi c'è qualcosa di molto profondo che ci lega, c'è una stima reciproca, c'è un affetto molto forte e reciproco e era veramente un approdo abbastanza inevitabile quello di avere lui come bassista nel mio disco, cioè non potevo veramente immaginare di farlo con qualcun altro. Poi quando io gli ho comunicato che avevo un po' sciolto gli indugi, che mi ero convinto di voler andare fino in fondo, di farlo questo disco, lui mi ha accolto con un grosso sorriso e un abbraccio dicendomi che non vedeva l'ora che io avessi preso questo coraggio e quindi ho anche incassato diciamo il suo entusiasmo, allora a maggior ragione questo sodalizio non poteva non esserci. Ho capito. Bene, bene, quindi niente, io rimango un attimo sulla questione di Gianni perché sia io che Fra siamo di Firenze in particolare, io sono di Sesto Fiorentino e lui è di Campi, e vicino a noi c'è lo studio M dove voi avete registrato credo almeno il primo dei rischi dei Marlene, se non sbaglio, a Calenzano. Qui a Calenzano? Ah no no, cioè voi siete di Firenze però vicino a voi? Sì sì, Firenze è Firenze. Buonissimo a casa nostra, c'è... Sì sì sì, per un attimo ho immaginato che in realtà foste proprio di Calenzano, scusa. No, no, però è veramente molto vicino. E tra l'altro io conosco anche Marzio e mi è capitato di andare in studio e siccome noi spesso cerchiamo di rimanere legati alla scena locale nostra, no? Intervistiamo magari artisti che sono dei ragazzi del posto eccetera, non so se ti ricordi qualcosa in particolare di quei primi tempi di quando siete stati a Firenze a registrare allo studio, se c'è qualcosina che ci vuoi un po' dire, ecco. Ma intanto faccio una contraddomanda io a te, quindi lo studio M esiste ancora? Funziona? Sì? Sì sì, c'è Marzio ma non fa quasi niente, lui in realtà è un'ala dello studio, diciamo affittata ad un'altra persona. Ho capito. Eh, ho dei ricordi intensi, molto particolareggiati, affettuosi. In realtà ci sono in due o tre occasioni, io parlo in maniera circostanziata dello studio M, in un libro che ho scritto che si chiama Nuotando nell'aria, che inviterei a leggere su questi aspetti qua, perché lì vado molto addentro a quell'atmosfera. Un'atmosfera in cui noi stavamo iniziando un'avventura per noi importante come la nostra stessa vita. Si stava per fare il primo disco lì, chiaramente il primo disco in questione, noi non potevamo saperlo, ma era destinato a diventare un disco molto importante, si dice, nella storia del rock italiano, non sto facendo il finto tonto, il faro stesso, però so che viene considerato un disco importante, io ne sono ovviamente orgoglioso e questo disco è stato registrato lì e noi ci arrivavamo come dei ragazzotti, neanche più tanto ragazzi, perché io avevo già 27 anni, pieni di una voglia di fare, di spaccare il mondo, di dare una svolta alla nostra vita, era già stata particolarmente sofferente questa lunghissima attesa, perché lo ripeto, io avevo già 27 anni, quindi ero veramente vicino a un punto di non ritorno, cioè non avrei inseguito questo sogno, che ne so, per molti altri anni ancora, come si scusa a dire, a un certo punto avrei dovuto mettere la testa a posto, no? Però fortunatamente, fortunatamente quasi fuori tempo massimo arriva questa opportunità e lo studio M è a tutti gli effetti il luogo in cui queste emozioni si convogliano e finalmente esplodono. Io ho un sacco di ricordi magnifici che mi legano a quel posto così cruciale per noi. Ma senti, io diciamo che per, preparando un po' l'intervista, poi chiaramente durante il primo lockdown ho seguito un po' le tue dirette in cui hai avuto modo anche di parlare un po' di musica, dei tuoi ascolti recenti e quant'altro. Una cosa che ho notato delle playlist che sono sul tuo profilo di Spotify è che hai dato molto spazio ad artisti come, chiaramente, Nick Cave, Dylan, Leonard Cohen, anche De André. Io volevo sapere un attimo se ci sono, anche e soprattutto per quanto riguarda questo progetto di solista, insomma, se ci sono altre artisti che in qualche modo ti hanno influenzato nel cantautorato, ecco? Penso di no. Io ovviamente sono abbastanza, a seconda dei periodi, comunque sono un ascoltatore abbastanza onnivoro di novità. Chiaramente, vabbè, diciamo, da quando c'è Spotify, da quando ho Spotify, che è diverso, ce l'ho da 5-6 mesi, c'è stata una prima fase di, diciamo un po' così, di vaga ebbrezza, in cui sono andato un po' a, anche un po' a scoprire nel passato se ci fossero tutti i dischi che mi potevano venire in mente, li ho trovati quasi tutti e ho ascoltato molto in quel periodo, però adesso mi sono un po' così distaccato perché questa bulimica disponibilità del tutto, purtroppo in realtà poi io non sono molto favorevole a tutta questa cosa perché poi crea una specie di... è come l'assenza del mistero, no? Il mistero rende una certa cosa sempre un po' appetibile perché è anche irraggiungibile. Quando ce l'hai sempre a disposizione, purtroppo il giochino si perde di una parte di sorpresa che è connessa proprio alla natura umana, cioè quando noi ci... quando una cosa... anche potessimo mangiare tutti i giorni le ostriche, che sono un cibo prelibato, o perlomeno... Molto probabilmente ci verrebbero... Ci verrebbe... sono in quella fase lì e quindi in questo periodo non sono così onnivoro ascoltatore di musica, poi c'è di mezzo un Covid, c'è stata un'estate difficile, piena però fortunatamente anche di spostamenti per me. Però ecco, io in genere ascolto molto e a seconda delle varie fasi ci sono momenti in cui ascolto anche le proposte attuali che più o meno hanno a che fare con situazioni, diciamo, di cantautorato. Adesso che ne so, mi viene in mente... Sufian Stevens, mi viene in mente Stefan Malcmussi, il cantante dei Pavement, anche se i dischi non sono... tipo il cantante dei Pavement, non è che faccio dischi di cantautorato con chitarra acustica, sono con chitarra elettrica, c'è una band, però... ma adesso sono i primi due nomi che mi vengono in mente. Però per il mio disco devo dire che veramente nella mia testa, nelle mie dita, c'era prima di tutto... c'era proprio Neil Young prima di tutto, ma non è che io mi sono messo lì e ho detto voglio fare un disco... Alla Neil Young. Come Neil Young? Semplicemente Neil Young è il mio primo idolo rock. Quando io ho iniziato a cibarmi e a nutrirmi di rock, lui è diventato il mio primo idolo, molto prima dei Sonic Youth, molto prima di Rick Cave. E quel suono lì, soprattutto il Neil Young acustico, che per me è più figo ancora del Neil Young elettrico, è proprio un dio per me, è una roba che ho dentro da 35 anni. E quindi quando io imbraccio la chitarra acustica, suono in un modo che mi ha forgiato da ascoltatore quando avevo 16, 17, 18 anni. Certo. Eh sì, poi Neil Young anche noi ne abbiamo parlato spesso, perché ovviamente è uno di quegli artisti di riferimento, penso, per chiunque abbia interesse, diciamo, nella musica rock. È molto difficile imbattersi... Adesso, vabbè, più si va avanti, più le giovani generazioni saranno distanti da Neil Young che cominceranno veramente a vederlo come un nome, dinosauro, e va bene, ed è giusto così. Però credo sia veramente difficile imbattersi in qualche, diciamo, denigratore di Neil Young fra i mondi. Esatto. È proprio veramente un'intoccabile, credo. Un po' come Johnny Cash, un po' come quella gente... Poi, per carità, ci sarà anche chi lo detesta, però è veramente uno di quelli che è proprio... Il cui valore, a prescindere, è abbastanza così dato, per certo. Intrinseco, insomma. Sì, esatto. Senti, tornando un po' a parlare anche dei Marlene, una di quelle cose che ho sempre apprezzato è la capacità, in qualche modo, di evolversi, no? Nel senso che voi siete partiti da un certo punto o negli anni 90, però poi non è che siete rimasti troppo legati a quel tipo di scena, ma siete riusciti in qualche modo a evolvervi nel corso degli anni. Chiaramente questa cosa, immagino, possa attirare i fastidi di alcuni fan della prima ora, no? I classici che magari se ne escono con eh, i primi dischi erano migliori, poi si sono venduti. Considerando anche poi che con il tuo lavoro da solista hai cambiato ulteriormente strada, in qualche modo, soprattutto dal punto di vista sonoro, te ne freghi qualcosa di quello che può pensare la gente nel momento in cui vai a registrare o fondamentalmente se hai voglia di suonare un certo tipo di cosa o di fare una canzone in un certo modo, lo fai e basta? Ma quando io registro un pezzo, quindi sia da solo che con i Marlene, quindi quando il pezzo ha subito tutto il percorso di creazione, quindi quando un pezzo è arrivato in fondo, io non ricordo di un pezzo nostro o mio che non mi abbia comunque procurato una grandissima gioia nei suoi confronti. Sono veramente pochi, ma non saprei quasi individuarli i pezzi che forse sono, anche dal mio punto di vista, dei pezzi che forse potevano anche non entrare nel disco, ma in una produzione di 150 pezzi credo che potrebbero essere tre o quattro pezzi che potrei dire, boh, poteva anche non entrare nel disco. Però anche quelli lì, comunque quando io li ho registrati, se sono arrivati fino in sala di registrazione vuol dire che noi avevamo dedicato tutta la premura artistica, tutto l'affetto, come si usa la metafora dei figli, per parlare delle proprie canzoni, che si dedica a un figlio. E quindi io sono sempre estremamente entusiasta e sono sempre in quel momento lì convinto proprio, no, questa volta nessuno potrà dire che questo pezzo fa gagati. E poi invece sono almeno sette dischi, da sette dischi a questa parte, che io invece poi tutte le volte so quanto ci saranno persone che romperanno i coglioni. Detto così, uno potrebbe dire, sì, no, ma come, ma tu non puoi piacere a chiunque. È vero, lo so molto bene, non si può piacere a chiunque, lo so. Però c'è un certo tipo di critica. Tu hai detto, immagino, ma tu sai molto bene quanto a parte del pubblico nei confronti dei Marlene Gunz ci siano tante persone che sostengono che i veri Marlene sono quelli dei primi tre dischi. È una litania che ha rotto i coglioni a me in una maniera... Sì, ma infatti, mi immagino. ...neanche come comunicare, perché la trovo proprio ingiusta, ma soprattutto dal punto di vista di quel popolo che io non ho mai tradito, che è quello del rock di cui stiamo parlando. C'è. Perché sono io che mi sento tradito da un certo tipo di persone. Non sono io da aver tradito, perché io sono talmente sbaccalito quando vedo a volte delle cose e dico che cazzo scrive questo? Ma come è possibile? Perché tutto ciò che io faccio con la mia musica è sempre all'insegna di una genuinità e di una passione. Poi, è vero, io cerco di migliorarmi e vado altrove. è un cliché quello di pensare che in Marlena debbano fare noise. Ma è stupido, ma è un cliché molto stupido. Anche perché se noi avessimo fatto noise, avessimo ruggito tutta la vita, cosa che facciamo dal vivo tutte le volte che abbiamo voglia e ci avrebbero abbandonato comunque in un altro modo perché avrebbero detto che eravamo sempre uguali. Sono cose molto, purtroppo esistono, lo so, non credo che sia giusto nei nostri riguardi, però sono almeno sette dischi che cerco di farne una ragione volente o nolente. Sì, sì, no, nemmeno noi crediamo sia giusto, anzi, ne abbiamo parlato spesso anche riguardo ad altri artisti di quanto questa storia del dire, no, i primi dischi erano migliori, poi si sono venduti, ma rispetto a chiunque. Crea un pregiudizio radicato che lo trovo ingiusto. Senti, a proposito anche, rimanendo sempre sulle cose recenti, io ero al concerto l'ultimo, la chiusura, no, la penultima data del tour che avete fatto quest'estate a Pistoia. L'ultima. L'ultima, perfetto. In cui praticamente eravate, eravate tutti un po' immersi in questa atmosfera piuttosto suggestiva e una cosa che a me affascina dei vostri live comunque sono sempre le parti in cui chiaramente negli intramezzi tra un pezzo e l'altro iniziate a sperimentare un po' e vi calate nel noise, no, quindi un po' in contrasto con quello di cui abbiamo parlato a proposito del cantautorato, eccetera. Io volevo sapere da te un attimo, sempre a proposito di processo creativo, come nascono queste spore, no? Come vi interfacciate in studio magari nel registrare queste parti noise che chiaramente immagino abbiano tutta un'altra dinamica rispetto magari chiaramente a scrivere un testo e mettere parole su carta. Sì, perché sono improvvisate. C'è una dinamica fra di noi che ci permette di avere un interplay, no? Fra di noi. Cioè, giochiamo, soprattutto io e Riccardo, ma anche Luca, il batterista, noi suoniamo insieme da più di 30 anni, ci capiamo, è una specie di meccanismo, no? È molto primordiale la dimensione improvvisativa nostra, perché, ad esempio, anche i jazzisti improvvisano, però hanno una complessità nella loro improvvisazione che noi rockettari ce la possiamo sognare, però noi abbiamo dalla nostra, cosa che anche i jazzisti hanno, però che rende comunque nobile il nostro modo di improvvisare, nostro intendo di noi rocker, per così dire, è il feeling. Quando una band sta insieme in un modo potente dal punto di vista dell'interazione, della capacità di interloquire a livello musicale gli uni con gli altri, quando uno capisce che deve far spazio agli altri, cioè quando c'è tutta una dinamica oliata, questo rende nobile l'improvvisazione anche se primordiale, anche se basica in un contesto rock, ed è quello che noi facciamo quando facciamo quelle che tu giustamente hai chiamato le spore, noi le chiamammo così tanto tempo fa, all'epoca del nostro terzo disco ho ucciso Paranoia uscì una possibile edizione doppia dove il doppio disco era proprio questa raccolta di improvvisazioni. Noi ci approciamo a quelle quando spesse volte abbiamo semplicemente anche solo voglia di cazzeggiare, poi il cazzeggio si fa serio anziché una roba che dura 3-4 minuti dove poi si molla, si va avanti perché alla fine c'è sempre è autoalimentato quel cazzeggio e diventa una roba più determinata c'è molta concentrazione e a volte si andava anche avanti per più di mezz'ora certo ed era ovviamente trascinante ovviamente coinvolgente figo sì infatti è una è una di quelle cose che ora si lega anche alla domanda che ti volevo fare dopo perché io a Pistoia non c'ero l'ultima volta però vi ho visto tante volte prima e in particolare se non sbaglio la la prima volta è stato per il ventennale di Catartica credo il mio primo concerto che ho visto di voi ho notato quanto ovviamente fosse importante rispetto anche ai dischi l'impatto che voi date al live quanto effettivamente il live conta nella nell'universo diciamo così musicale dei dei Marlene e ho notato è una cosa che diciamo di cui hai parlato anche tu durante i non durante all'interno degli articoli che hai scritto per Rolling Stones io ne ho letto alcuni se state in cui tu sei andato anche a descrivere proprio bene alcune dinamiche che riguardano diciamo la vita dell'artista no soprattutto immerso in questo mondo moderno fatto di streaming di youtube di royalties e cose varie in cui effettivamente diciamo c'era una si nota un distaccamento rispetto a per quanto riguarda gli artisti nuovi rispetto all'arte live magari non tanto nella musica rock però ci sono tantissimi artisti io mi immagino della musica pop o del trap che per cui il live è un qualcosa di secondario mentre invece per per te e per diciamo gli artisti rock immagino che il disco venga fatto in funzione del live nel senso che comunque il ruolo centrale ce l'ha quello è quello del live considerando tutto il casino che sta succedendo adesso col covid che non si sa nemmeno quando riprenderanno i concerti non pensi che possa essere in realtà questo momento qui possa essere utilizzato per andare a cambiare alcune dinamiche della dell'industria musicale dell'universo musicale per cercare di no troppo complicato troppo completamente impossibile impossibile non c'è nessuna possibilità vorrebbe dire sovvertire le dinamiche di internet completamente impossibile ma proprio non lo riesco neanche a catalogare nella a collocare nella categoria dei sogni cioè proprio confinato all'utopia perché io ti dirò avevo provato a fare un'analisi di questo tipo all'interno della mia tesi cercando di trovare un escamotage diciamo anche tecnico per cercare di cambiare se trovi c'è un mondo di musicisti là fuori che penderebbe dalle tue labbra sì no effettivamente è molto molto complicato però sì cioè notavo appunto da parte tua in quello che scrivevi anche un po' di come posso dire cioè da una parte sapere che internet è uno strumento veramente importante però che allo stesso tempo per come si è sviluppato non è che abbia fatto troppo bene all'artista non tanto alla musica magari in sé in generale perché comunque un sacco di persone adesso possono ascoltare come dicevi tu qualsiasi cosa su spotify però effettivamente il ruolo dell'artista è andato un po' è rimasto un po' sommerso da tutto quello che è successo con internet è veramente è un argomento enorme poi io ho delle opinioni che per essere apprezzabili hanno bisogno di uno spazio perché io le devo poter spiegare perché io penso molto male di internet prima di tutto penso molto bene io penso che internet sia ovviamente una pietra migliare nel percorso dell'umanità se l'umanità ci sarà ancora e quindi se il clima nel frattempo non ci avrà annientati si studierà internet come un momento topico però io trovo che l'utilizzo di internet purtroppo secondo me non solo a livello di ciò che ci interessa noi cioè dell'arte della musica ma proprio a livello sociale è uno strumento che in questo momento è dominato dalle forze malevole dell'umanità per farmi capire se fosse utilizzato dal potenziale positivo che è insito se si vuole nella natura umana perché la natura umana intanto con il progresso ha dimostrato di saper appunto anche inventare internet che è un prodigio della creatività umana se si fosse internet usato in modo positivo dal potenziale e dalle risorse umane io credo che potrebbe anche proprio risolvere molti problemi dei contesti sociali ma questo non avviene in realtà avviene il contrario c'è un gravissimo problema che non ho voglia di raccontare più di tanto in questo momento legato alla manipolazione le fake news poi le piattaforme l'ho dimostrato nei miei articoli che sono completamente non remunerano i musicisti al limite ecco per provare a fare una sintesi di quello che sto dicendo in una maniera che forse può cercare di aiutarmi a uscire da questo discorso che non posso affrontare se non dicendo banalità magari l'avete già visto io credo che un documentario come Social Dilemma faccia abbastanza capire di che cosa si sta parlando va visto credo va visto non con il desiderio di scoprire che quella roba lì ci fa cagare perché non si tratta di di andare lì per vedere che tanto quelli che ci presentano i complotti ci danno fastidio non è che si tratta di andare a scoprire un complotto si tratta di andare a scoprire la realtà esattamente quello che accade dietro i social e quindi se uno vede Social Dilemma con spirito critico positivo ne esce preoccupato perché dovrebbe intercettare un gravissimo problema quindi ritornando alla musica io l'ho scritto nel mio articolo è una tesi che però ho avuto bisogno di cercare di dimostrare in qualche modo ma io credo che semplicemente internet sta distruggendo un modo di pensare la musica così come sicuramente io che provengo da una generazione diversa dalla vostra ero abituato per fare una sintesi anche in questo caso la musica pensata secondo principi di natura idealmente artistica quando io vado a fare un pezzo come ho cercato di spiegare prima quello che mi muove è il desiderio di fare qualcosa di magnifico e di personale possibilmente il meno paragonabile a tutto il resto dei musicisti desidero esprimere la mia personalità questo è perdente in questo momento perché questo vuol dire che tu facendo questa cosa non sarai mai mainstream ma proprio neanche lontanamente e in realtà le piattaforme remunerano soltanto ciò che è mainstream tutto ciò che non è mainstream qualsiasi genere di musica di cui si stia parlando non è remunerato quindi la musica è diventata una cosa gratis allora io mi chiedo per quanto tempo potrà durare che i musicisti secondo i parametri che sto provando a spiegare potranno permettersi di fare questo tipo di musica si fa adesso in questo momento è vincente solo chi fa un certo tipo di musica che entra in questo meccanismo qua che è il polpasvelo dei ragazzini se tu sei fai musica che un buon centinaio di milioni almeno di ragazzini tutti i giorni clicca facendo suo streaming allora sei uno che ne esci remunerato ma siccome l'85-90% dei musicisti non è qua l'85-90% dei 90% dei musicisti in realtà non è più remunerato è un discorso complicato e lungo no no ma si è capito si assolutamente ma anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di no nel senso andiamo a prendere artisti che non siano mainstream in quello di cui parliamo e infatti anche noi siamo fuori da siete fuori dal giro giusto eh sì ma con orgoglio in qualche modo no siamo dentro quello giusto vero no comunque mi piace molto il fatto che tu abbia citato The Social Dilemma perché sicuramente è un documentario che in qualche modo cioè diciamo che da anche quello può polarizzare no l'opinione di della persona che lo guarda perché in qualche modo o ci si può totalmente dissociare da quello che è il rapporto con i social e quindi può venirne fuori un rigetto oppure può essere preso anche come una sorta di consapevolezza e quindi magari al farne un uso migliore a me per esempio viene in mente quella polemica che ci fu nel durante il primo lockdown o comunque verso maggio così a seguito delle dichiarazioni del CEO di Spotify in merito alla nuova produzione musicale degli artisti cioè che diceva se un artista fa un disco ogni sei anni è impossibile che trovi remunerazione in questo senso il che ha portato tutta la scena musicale indipendente che seguiamo noi da un po' di tempo a rivoltarsi in qualche modo e magari prediligere per esempio piattaforme come Bandcamp che danno modo di anche supportare economicamente con formati musicali diversi ecco quindi il problema è reale e concreto e purtroppo questa questa pandemia non fa altro che accentuarlo ma come penso tanti divari sociali e problemi che stanno emergendo una cosa però che mi ricordo del live a Pistoia è che nonostante fossimo tutti seduti in rigoroso ordine cioè io addirittura sono stato nonostante fosse in fondo all'ultima fila praticamente mi hanno beccato due volte che mi stavo per accendere una sigaretta e insomma mi hanno detto no qui non puoi fumare nonostante fossi all'aperto però mi ricordo che in qualche modo diciamo tu marcasti un po' il fatto di essere in una location abbastanza suggestiva e che il fatto che il pubblico fosse seduto composto comunque fosse ordinato vi spingesse a suonare a cercare di suonare tecnicamente in modo più perfetto possibile e ti volevo chiedere se effettivamente questa è una cosa che secondo te può essere riproposta per tutti gli ambiti musicali oppure necessariamente si andrà a vedere un calo di un certo tipo di concerti per esempio mi vengono in mente i concerti rock che necessariamente non hanno proprio lo stesso appeal ecco visti a sedere rispetto che magari in piedi oppure per esempio concerti jazz che sono godibilissimi ecco finché dura questa situazione sono in sofferenza i grandi eventi che necessitano di una platea immensa perché quelli finché ci sono i contingentamenti non funzionano da un punto di vista proprio di economia perché più il concerto è grosso più costa chiaramente sì prendere artisti come possono essere serve un'intuizione quasi basica per capire che quando un palco è molto grosso e c'è un sacco di gente anche il biglietto che si paga è in parte commisurato a quanto costa tirare su quel palco e allora più il contingentamento finché il contingentamento c'è questi grossi eventi non hanno il fondamento economico per esistere a meno che non lo so adesso faccio ovviamente una battuta però a meno che il pubblico che può vedere diciamo le mille persone anziché le diecimila che possono accedere a un'area contingentata non siano disposte a pagare un biglietto decuplicato oppure non siano disposte a vedere i loro idoli che sono abituati a vedere sfarzosamente contornati da un palco pieno di gadget non si accontentino di vederli in una formazione finalmente e puramente musicale io ad esempio so di essere un po' retrogrado in questo ma a me quando vado a vedere un concerto del spettacolo luce in genere non me ne frega quasi mai un cazzo più è grosso il concerto più posso apprezzare la cosa ma io ad esempio ho un concerto jazz godo se i musicisti jazz sono fighi perché quello che in quel momento mi sta attraendo è proprio la performance musicale però di sicuro so che le cose non stanno così e questa è la mia spiegazione per quanto riguarda invece certe altre musiche ad esempio in Marlene sono convinto che con questi tre concerti di cui l'ultimo hai visto a Pistoia sono attrezzati per fare un concerto coinvolgente e potente anche con la gente seduta e senza venir meno alla componente elettrica e questo è una cosa che devo dire mi inorgogliva anche molto mentre suonavamo perché sentivo che avevamo comunque raggiunto uno step nuovo mentre suonavamo io ad esempio ho fatto mezzo concerto a suonare con le dita la chitarra elettrica se mi avessero detto vent'anni fa tu suonerai la chitarra elettrica con le dita avrei guardato per la gente proprio per dire povero idiota che cazzo cosa puoi come fai a pensare a una cosa del genere per me la chitarra elettrica era proprio no questa roba qua invece poco alla volta educando il tocco ci sono chitarristi enormi che possono suonare un enorme che fa rock che è comunque rock quindi che non è che dici sì però quello lì no Warren Ellis che spacca i culi a chiunque violinista e chitarrista di Nick Cave suona spesso senza plettro quindi però quella è l'evoluzione di un musicista cioè di un di un rockettaro di un musicista che poco alla volta va verso la scoperta della espressività del tocco che è una una cosa molto molto piacevole ecco in quei concerti lì estivi io ho sentito che avevamo guadagnato qualcosa in più da un punto di vista delle qualità espressive del nostro tocco e per me dopo 30 anni di musica ancora avere l'entusiasmo di scoprire nuovi step ulteriori dovrebbe anche solo da questo punto di vista fare un po' ammutolire i rompicoglioni perché questo tipo di entusiasmo è genuino e parlando di concerti scusa no prego prego no niente niente dimmi pure no no ora lo vuoi sapere no dico non è che le mando a dire ma non mi diverto neanche a dirle però mi piace difendere i Marlene Kunz spesso attaccati in una maniera giustamente è stupida è molto stupida no ti volevo chiedere dei tuoi live da solista perché sono ancora in programma credo se non sbaglio erano a dicembre quando mi ricordo bene il primo il primo era il 27 di novembre cioè tre giorni dopo un DPCM che è già stato superato da un altro quindi ok quindi non faccio nessun tipo di illusione ma poi in questo momento c'è veramente c'è una tale escalation dei contagi forse devo sottolineare che io non sono negazionista e quindi c'è una tale escalation dei contagi che anche proprio cioè in questo momento sarebbe anche proprio un po' così una situazione diciamo di circospezione andare a suonare sarei contento mi lasciassero andare a suonare ma so che sarebbe una situazione comunque diciamo di veramente particolare attenzione quindi purtroppo mi arrendo e so che questo è un periodo dove ancora una volta bisogna cercare di di mantenerla calma e ognuno di noi sono convinto che debba collaborare perché più si collabora e più se ne esce purtroppo chi nega non pensa che ci sia da uscire da un bel nulla perché crede quello quello si è già un problema in sé molto preoccupato da queste cose qua da questa deriva grave si chiama post verità tutto ciò è la post verità che la stiamo la stiamo vivendo appieno la stiamo vivendo in queste ore perché c'è Trump che dice di avere non è vero è incredibile questa mescolanza voi ridete ma è grave bisogna sì sì molto grave sì no perché chiaramente è sempre è sempre un po' legato al discorso del si torna sempre lì del social dilemma quindi del voler ascoltare solo le persone che ti vanno al genio prima quando tu parlavi di questa cosa io purtroppo ho avuto non lo sapevo ma ho avuto la sensazione che sia polarizzante la trovo talmente stupida e sbagliata cioè proprio mi spiace mi spiace un casino che ci siano persone che pensano che quelle sono balle è un inviluppo ovviamente ormai siamo talmente polarizzati che ognuno vede le balle dove vuole però se può servire anche persone che magari ci seguono delle altre che ci stanno seguendo quello che viene detto ed esplicitato in social dilemma io sono almeno dieci anni che ritengo che sia un qualcosa che più o meno è quella roba lì se può servire a qualcuno cioè se può essere d'aiuto per qualcuno dubbioso una sensazione che io ho vissuto pura ingenua del tutto sganciata no? da quel che si dice io l'ho vissuta cercando di capire come mai mi frustrava così tanto internet che mi sta prendendo la musica gratis e ho cominciato a riflettere e certe certe cose certe certe dimostrazioni che fa il social dilemma io le sto sentendo dentro di me da parecchio tempo se può aiutare anche solo una persona a non essere prevenuta ma a vedere che quella roba lì è semplicemente il racconto reale di quello che sta capito non c'è dietro non c'è dietro un complotto teori di complotti veramente quindi purtroppo è molto è molto stupido essere divisivi su un argomento di questo tipo perché in realtà riguarda tutti noi di qualsiasi provenienza politica noi siamo purtroppo il mondo sta vivendo un momento difficile sì sì esatto ma infatti questo però dà anche meno spazio a discussioni e analisi che sarebbero in realtà molto molto utili perché nei momenti in cui una persona cerca di offrire il suo punto di vista soprattutto poi se questo punto di vista è basato su tutta una serie di ragionamenti di analisi e di studi c'è sempre quello che ti dà del che ti dice che stai dicendo una cazzata o che ti dà dell'idiota o so molto bene la sua lo so molto bene io parlo purtroppo dall'alto dei miei 53 anni quindi sono purtroppo sono un boomer per voi siete voi siete voi che non so come ve la vivete chiaramente voi siete più vicini all'idea di essere nativi siete nativi digitali immagino quindi per voi è una realtà che voi vivete in quanto ci siete nati non è voi non state vivendo la frattura che vivono le persone della mia generazione alcuni secondo me facendosi manipolare alcuni cercando di capire cercando di opporsi cercando di aiutare alla riflessione eccetera quindi è un casino cioè no però ecco sicuramente già già partire dal dall'avere consapevolezza di quello che è poi il problema effettivo è un po' è un po' la storia più vecchia del mondo però quello quello che sarebbe davvero necessario è un po' una sorta di rivoluzione dell'individuo come singolo no che non che parta proprio da non venga calata dall'alto ma che insomma debba in qualche modo uscire da ognuno di noi con consapevolezza di quello che facciamo tutti i giorni e questo si poi credo almeno dal mio punto di vista si dipani un po' nel cercare di vivere in modo più sostenibile e quant'altro nel cercare di farsi un'opinione propria ma che sia basata su evidenze scientifiche e che insomma se abbiamo conquistato delle cose in 2000 e passa anni di storia perché tornare indietro no io sono ovviamente d'accordo purtroppo c'è un attacco mirato alla scienza cioè pensa che pensa che il rappresentante della comunità scientifica in America che si chiama Fauci sapete sta girando con la scorta a voi sembra normale che un stia girando con la scorta le persone dovrebbero un po' riflettere su questa cosa qua perché gira con la scorta perché un certo tipo di persone purtroppo è fomentata d'altronde se voi ci riflettete sopra Trump nega che ci sia il problema del clima questo io considero sia molto grave però molta fiducia in voi giovani perché invece credo che voi sappiate la più parte di voi sa che il problema del clima c'è e dovete far qualcosa per 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 evitare cercare di rallentare il declino insomma per evitare il peggio che siamo un po' in mezzo noi come ho fiducia fiducia però in questo senso perché mi sembra di avere la sensazione che ne siate consapevoli e che vi opponiate a questa sensazione vergognosa falsa spudolata qui siamo sempre nell'ambito della post verità quando anche la verità più lampante non è comunque più una sufficiente balluardo per dire no questa è una cosa vera la vera è tangibile no in questo momento non è più neanche quella una prova che possa aiutare quindi a me fa molto piacere che parli della scienza e del non tornare indietro è per questo che spero in voi giovani cale fiducia nei giovani ora so che prima hai anticipato che non stai ascoltando molto in questi giorni ma c'è qualche realtà nuova che in qualche modo trovi interessante o che ti ha entusiasmato di recente allora guarda a me i nomi in questo momento non credo che mi verranno in mente sicuramente io penso che ci sia un sacco di c'è un sacco di nonostante quello che ho detto c'è un sacco di ragazzi giovani che fanno ottima musica in vari generi ad esempio mi viene in mente ad esempio lo conoscete uno che si chiama Moses Sumney qualcosa del genere è un nero e fa musica più o meno nell'area del neo soul mediamente non sono così suscettibile al neo soul soprattutto mi dà un po' fastidio che l'intelligenza del rock per così dire veda nel neo soul l'unica musica figa mi fa un po' sorridere però ovviamente lì dentro c'è anche roba figa lui è uno che arriva da quel mondo lì ed è fantastico poi c'è ad esempio l'ultimo disco di Parfum Genius che è bellissimo altro in questo momento non mi viene in mente ho nominato due dischi entrambi particolarmente complessi sì assolutamente per nulla non semplice musica tosta impegnativa va ascoltata con dedizione per essere compresa quindi sì da un certo punto di vista ho questa fiducia però non dimenticatevi quello che ho detto prima in merito alle piattaforme c'è una forma di eroismo nel fare un qualcosa di non remunerato e non so quanto possa durare questo gioco cioè quando si è giovani sicuramente vale un po' tutto poi la vita a un certo punto presenta il conto però diciamo finché i giovani fanno questa musica guai io sono convinto che in questi quest'anno è un anno dove c'è un sacco di ottima musica secondo me bene bene e niente grazie veramente a voi a voi è stato molto bene a voi è stato molto bene con i ragazzi quanti anni avete? 26 26 e 27 ok bello è stato bello un bel confronto sì veramente grazie poi siamo tuoi fan quindi era già insomma abbastanza surreale il fatto di vederti in videocam quindi perfetto perfetto bene Cristiano buona serata a presto e in bocca al lupo per tutto insomma vi auguro il meglio grazie grazie ciao ciao grazie a tutti Grazie a tutti.